Si naviga a vista in riva all'Oionio e in materia di sanità, lo spocchio di Corigliano Rossano, i presidi di Trebisaccio e di Cariati, soffrono della drammatica carenza di personale, operatori stremati, sottoposti a turni massacranti e ad aggravare il contesto l'avvio della prossima stagione estiva con l'arrivo di turisti. Con l'attuale personale in dotazione non si riesce a garantire neanche un piano di ferie, eppure i fondi ci sono. Per la Regione Calabria sono stati stanziati ben 12 milioni di euro. Tra le varie tematiche c'è anche il finanziamento, i soldi che sono previsti nel decreto Calabria 2 e che sono momentaneamente bloccati. Questi soldi ci sono, abbiamo chiesto di sbloccarli velocemente perché grazie a questi soldi riusciremo ad ottenere assunzioni di personale che sono fondamentali anche per riaperture di ospedali chiusi, come quello di Cariati ad esempio, chiusi da tempo. Nella provincia di Cosenza, a differenza di altre ASL calabresi, si fa fatica a mettere in moto la macchina delle assunzioni e lo smistamento del nuovo personale nelle aree di sofferenza. Ci sono dei problemi probabilmente burocratici che comunque si devono risolvere proprio perché sul comparto sanità non si possono effettuare tagli, non si possono effettuare ritardi e non si possono effettuare inceppi burocratici. Tiene banco la suddivisione dello SPOC in area medica a Corigliano e area chirurgica a Rossano. Queste sono decisioni che spero verranno prese a breve e che spezzano un po' alla struttura commissariale. Questo è il tema però, ecco perché c'è bisogno della collaborazione. Dobbiamo capire cosa farà Rossano il Preside, cosa farà Corigliano con un grande spirito di collaborazione.